Grazie Presidente, in questo intervento anticipo la mia dichiarazione di voto. Rimaniamo infatti contrari al provvedimento in coerenza con il nostro voto in fase di adozione e con quello del nostro consigliere in Consiglio di zona. Grazie. Grazie Consigliere Calise. Assessore De Cesare, se lei intende... Metto in votazione la delibera numero 98. Nomido scrutatori perché non ci sono tutti gli altri, quindi Ghezzi è presente, Rizzi e Barberis. Viene sostituito da Lazzarini. Grazie. E se non dovesse entrare Rizzi lo devo sostituire con il consigliere Osnato. Posso chiederle la cortesia? Grazie. Allora sostituiamolo almeno per questa votazione. E' aperta la votazione. Grazie. 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 Dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 37 consiglieri, 33 favorevoli, un contrario, 3 astenuti. Il consiglio approva. Grazie. 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 Grazie a tutti.